Sul lago di Santa Giustina in Trentino le ricerche di Sara Pedri, una donna, una ginecologa di 31 anni di Forlì che è scomparsa il 4 marzo del 2021 e su di lei, sul suo lavoro c'era stato un racconto molto pesante, il nostro Edoardo Lucarelli è in diretta con noi perché questa donna sull'ambiente di lavoro avrebbe ricevuto mobbing, stalking, non è stata ascoltata, dunque a te Edoardo Eccoci sì, qui come dicevi siamo sul lago a bordo del gommone dei carabinieri subacui di Genova siamo a bordo di questo gommone perché sono in corso, come dicevi, le attività di ricerca di Sara Pedri, la ginecologa 31enne Lago di Santa Giustina tra Novella e Cles, tra questi due comuni, perché siamo tornati qui, perché i carabinieri, gli investigatori sono tornati qui beh perché nei giorni scorsi sono state fiutate alcune tracce proprio su questo lago vi spieghiamo come questa attività si svolge, la sta dirigendo in questo momento il comandante Maurizio Gargiulo vedete qui c'è un cane, uno dei cinque cani che da Monaco di Baviera, dalla Germania, sono venuti qui grazie alla polizia tedesca perché sono pastori belgi che sono specializzati nella analisi, nella ricerca di cadaveri all'interno di specchi d'acqua come questo qual è la loro particolarità? Che riescono attraverso la vista ma soprattutto un olfatto molto sviluppato ad individuare sostanzialmente dei gas putrefattivi che vengono a galla quindi hanno un olfatto molto molto sviluppato più di quello umano e sono in grado di capire se c'è una traccia o un eventuale corpo ci sono state delle segnalazioni nei giorni scorsi che i carabinieri stanno verificando ci sono a largo di questo lago anche altre due imbarcazioni dei vigili del fuoco del distretto di Cless con altre unità cinofile si cerca appunto Sara Pedri nel caso in cui abbia deciso in qualche maniera di fare un gesto estremo e di buttarsi proprio in questo specchio d'acqua come ci sarebbe finito Eleonora? Perché secondo quello che si ipotizza è possibile che lei si sia lanciata nel vuoto finendo poi nel torrente noce che lo possiamo vedere alla nostra destra laggiù le cui acque arrivano proprio in questo lago ecco l'attività in questo momento ve la stiamo mostrando il cane sta anche visivamente guardando questo specchio d'acqua e qui c'è tra l'altro, questo il resto dell'attività che viene svolta proprio in questo momento c'è un carabiniere proprio del nucleo di Genova che è pronto a buttarsi in acqua nel momento in cui c'è la segnalazione di una traccia si getterà tra un po' anche perché l'attività perlustrativa è importante per dare ulteriori elementi di riscontro Allora grazie Edoardo, complimenti ai carabinieri stanno veramente facendo un'opera incredibile di ricerca che proseguirà per tutta la giornata magari se riusciamo ci colleghiamo fra un po' insieme grazie al nostro Edoardo Lucarelli Ciao Edoardo Ho anche questa attività in corso perché, sì Dimmi, dimmi Edoardo perché purtroppo devo dare una tristissima notizia Perché siamo arrivati nel punto che volevamo attenzionare con i carabinieri nel punto che volevamo attenzionare e il carabiniere è pronto a tuffarsi nel lago per poi ispezionare questa parte di lago che è ancora una di quelle su cui si può prestare attenzione non so se è pronto il carabiniere a buttarsi ed è un'attività importante perché qui viene fatto una sorta di reticolo proprio per fermarsi su un punto in particolare ti dico solo questo qui abbiamo circa una profondità comandante di una quindicina di metri è possibile? In questo punto, sì ovviamente a tenere presente che il fondale per avere un'idea è il proseguimento di quello che si vede all'argine quindi quando ci distanziamo a circa 20-30 metri abbiamo già circa una profondità di 40-45 metri all'incirco A voi Grazie, allora vogliamo seguire il tuffo che doveva fare Edoardo? Cioè il, scusa mi lancio all'interno Ci siamo, siamo pronti vi mostriamo esatto, proprio come avviene l'attività cioè questa è una zona da battere il cane nei giorni scorsi ha segnalato Eccoci, ci siamo e adesso il subacqueo va a vedere sul fondo le rilevazioni che sono state fatte anche nei giorni scorsi perché questa è una delle zone attenzionate in cui la traccia è stata fiutata Grazie Edoardo Se riusciremo torneremo da te Io vi devo chiedere Grazie a tutti